ANSA, Roma, 28, il presidente dell'USACLI, Damiano Lembo, è stato accolto stamane da Don Jonathan De Marco, da poco nominato nuovo direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI. L'incontro rientra nel giro di colloqui con gli enti sportivi riconosciuti ed è stata anche un'occasione per ragionare sull'impegno dell'USACLI sul territorio, e sulla mission relativa alla promozione sportiva. De Marco ha riconosciuto l'impegno delle ACLI, manifestando piena disponibilità riguardo alla problematica relativa alla riforma del terzo settore. Soddisfatto il presidente dell'USACLI, Damiano Lembo. «Ho manifestato a Don Jonathan il nostro impegno per lo sviluppo delle attività sportive su tutto il territorio nazionale», fa sapere Lembo. Confermando la volontà di una piena collaborazione con l'Ufficio con delega allo Sport della CEI.